Mentre invece immengendomi nel libro respiravo, cos'è che cosa respiravo, cosa abbiamo respirato? Abbiamo respirato la politica, questo è quello che io ho detto subito, che oggi non c'è. La politica, lo ricordava anche Stefania, un po' come l'aria che respiriamo, e per chi poi come noi l'ha fatta, la sua assenza ci fa diventare come degli pesci in un acquario, solo che non siamo pesci. E allora viviamo in Atnea. Adesso ho sentito parlare di Mitterrand, della grande riforma di questo piccero alto, che c'era allora, e che Craxi interpretò in maniera esemplare. Per non togliere ad altri spazi, andrò per riflessioni. Il libro è importante e mi ha ricordato un altro libro di Ugo Finetti, che è Gli anni di Craxi, e che la storia di come Bettino ha gestito il cosiddetto nuovo corso, è anche quello vecchio, perché mi ricordavo prima la Lai Lini, io mi ricordo di Craxi quando era benedetto, non era ancora diventato Bettino, ma già lo era. Questo libro lo approfondisce i temi, cioè isola un periodo storico e lo mette in evidenza con estrema chiarezza. Craxi, pochissimi capirlo, ma io mi ricordo che allora io, Ugo, Carlo e tanti altri, ce ne rendemmo finito conto cos'era Craxi, era il rottamatore, era colui il quale appariva sulla scena politica nazionale, non da niente, ma da una lunga gavetta, da un lungo percorso attraverso la vita di partito, la vita amministrativa, e fa un'irruzione sulla scena politica, proprio come colui che rottama, non soltanto altri protagonisti, e c'è una grande differenza, Craxi non gli veniva neanche in mente la parola rottamazione, aveva un grande rispetto per i cosiddetti anziani, per i vecchi del partito, però di fatto lui è stato colui il quale ha aperto una diversa fase in cui i giovani rompono sulla scena politica del partito socialistiale e del paese. E questo è un aspetto fondamentale, pochissimi, se voi guardate le note, pochissimi giornalisti che Spiri giustamente ha citato, pochi se ne sono resi conto, molti altri si soffermavano, perché probabilmente anche questo è un po' il limite di chi fa la cronaca politica, si soffermavano sul fatto, ma adesso però c'è sempre nelle mani di Mancini, oppure di quell'altro, oppure di Maghe, eccetera, perché l'opista politico poi non è obbligato a rimanere nelle cose quotidiane, nella tattica. Pochi avevano capito, intuito, che Craxi aveva la strategia, questa era la grande novità nella politica eterna, è una strategia che poi è data avanti e che negli anni Ottanta appunto dei Craxi Tears, come dicono gli storici anglosassoni, ha il suo modo di svilupparsi. Ci sono delle intuizioni, già per esempio nel congresso di Palermo, ma anche prima, Bettino, beh, ah, lo cita bene il libro, Bettino tiene un incarico esplorativo da parte di Pertini, se me ne ricordo perché la DC si era un po' incartata, tutta una serie di proposte e di proposte, non si riusciva a trovare il mango della matassa, dall'altra parte non si riusciva perché nessuno aveva il coraggio di dire che c'era bisogno di una sola parola, una e una sola, la governabilità, però se aveva paura a parlarne, a dirla, a esplicitarla, chissà se poi ci alleiamo con dei C, chissà cosa succede. Ad ogni modo, Bettino tiene questo incarico e la cosa che mi colpì, anzi mi ha colpito poi negli anni successivi, è che fa un'intervista in televisione e al telegiornale e naturalmente spiega che adesso ci riuniamo, la direzione farà, però introduce una novità, penso che sottoporrò agli altri partiti e al Paese un contratto con gli italiani, vi ricorda qualcosa? Vi ricorda, credo che abbia anticipato in molti anni un contratto con gli italiani che poi fosse fatto da Vespa, con la scrivania, la lavagna, con indietro gli spingotti, tipo Crespi, che spingava, quindi fare questo, questa, però, si tolsi non è qui,